Come sai, come abbiamo detto, questa cattedra è dedicata a Monsignor Padovesi e quest'anno abbiamo scelto come relatori tutti, quasi tutti, con fratelli che lo hanno conosciuto bene. Puoi dirci qualcosa della sua persona a partire dalla vostra conoscenza? Nel collegio internazionale di San Lorenzo dove stavamo, non so per quale motivo, gli studenti scommettevano chi sarà Vescovo prima, Spiteris o Padovesi? Cosa vedevano per averci fatti i Vescovi tutti e due? Il fatto sta che io l'ho battuto in arrivo, sono stato eletto nel 2003 e lui nel 2004, è venuto a Corfu portando con sé un pullman pieno di studenti i quali sono usciti fuori alla piazza grande dell'isola di Corfu, quell'abito cappuccino, guardava la gente e diceva ma dove vengono questi qua? È stata l'invasione dei cattolici qui e poi sono stato io alla sua ordinazione a Eskenderum, però la cosa più impressionante è che a Corfu facciamo sempre la processione del corpus domini in maniera molto solenne, e un anno prima che lui morisse, mesi prima che morisse, l'ho invitato per venire a Corfu ed è venuto ed era l'ultima volta che l'ho visto da vicino, ci siamo abbracciati. Ha accenato padre Luca che abbiamo instaurato e abbiamo iniziato questo dialogo, questo incontro con la facoltà teologica di Salonico Ortodossa e l'Antonianum, è un fatto talmente importante che il Papa quando è venuto in Grecia due anni fa, due anni fa, due anni fa, due anni fa, non mi ricordo, nell'incontro con l'arcivescovo ortodosso di Atene e tutta la Grecia ha citato questo avvenimento come una cosa più importante del dialogo con gli ortodossi, è il dialogo più importante a livello teologico che si può fare, è resiste 30 anni immaginate, ma come ha potuto essere realizzato? Perché ho incontrato l'apertura ecumenica e l'apertura mentale, soprattutto perché bisogna capire certe cose, di Luigi, lì ho parlato, sento sia smato ed erano delle difficoltà economiche immense, l'abbiamo superato tutto con la difficoltà che facevano alcuni professori lì a Salonico e finalmente l'abbiamo fatto e ora a Salonico i vari professori che si sono seguiti, altri sono ormai in pensione, però si trovano sempre i giovani, i giovani che sostituiscono i vecchi e lo organizzano. Questa volta è anche lui, vedete, è una catena di persone che capiscono l'importanza e questo è dovuto non solo al pensiero che ho avuto ora, sarebbe troppo lungo raccontarlo come mai, ma è stato lui che ha voluto, se non l'avesse voluto non l'avremmo realizzato, è una delle cose più belle che io mi ricordo per lui, oltre alle altre cose che voi conoscete non è il momento di dilungarmi su questa realtà. Grazie padre Gianni, l'anno scorso abbiamo fatto l'ultimo simposio ad Atene, anche questa è stata un'esperienza molto bella, c'era Stella, c'era Sor Chiara, c'erano alcuni fra voi, c'era il nostro decano padre Carlos e abbiamo avuto un'ottima esperienza e un'ottima accoglienza del metropolita di Peristeri Gregorios. Bene, grazie. Allora, seconda domanda, ecco, allora siccome sai e come vedi i nostri studenti sono molto internazionali, e dicevo appunto c'è solo Stella che è greca, tutti gli altri non sono greci, probabilmente non conoscono molto la situazione della Grecia. Allora, se puoi presentarci brevemente il contesto in cui hai lavorato, cioè il contesto della Chiesa Ortodossa greca e anche della presenza cattolica in Grecia. Allora, la Grecia è una piccola nazione dal punto di vista stessa e di estensione, gli abitanti sono 10 milioni e non più, su per giù, però porta un'immensa responsabilità culturale attraverso i secoli e la lingua, state attenti, è una lingua in cui si parla da 3.000 anni, perché il greco nella sua evoluzione è lo stesso, con cui le stesse lettere, è lo stesso greco che ha usato Omero e soprattutto il Nuovo Testamento. Chi è il che studia la Bibbia e il Nuovo Testamento deve sapere il greco, altrimenti dice delle corbellerie. E anche porta l'eredità della grande civiltà di Bisanzio, anzi la Chiesa soprattutto, si sente quasi un Bisanzio dopo il Bisanzio. La bandiera dell'ufficiale, diciamo, della Chiesa Ortodossa è un'aquila bicefala, che era l'ultimo simbolo dell'impero bisantino prima della sua caduta, per cui porta tutta questa eredità. I padri greci hanno scritto in greco, quindi si sente responsabili di questa grande eredità. Questo ha un aspetto positivo, anche un aspetto un po' negativo, e dà l'autocoscienza di una specie orgogliosa superiorità rispetto agli altri. Vabbè, rispetto ai cattoli lo sentiamo, lo capiamo, però sono due ortodossie nel mondo. Il mondo dell'ortodossia greco, che fa riferimento al patriarcato di Costantinopoli, e il mondo dell'ortodossia slavo, che fa riferimento al patriarcato di Mosca. Come sapete, in questo momento c'è un tragico scontro tra le due civiltà, le due cristianità, fino a qualcuno parla addirittura di scisma, che non avverrà, non credo che arrivino a questo punto di vista, con grandi conseguenze. Il mondo greco, voi sapete dal punto di vista storico, la Grecia è stata, dopo la caduta di Bisanzo, e poi a poco a poco la caduta delle altre parti che facevano parte dell'impero bisantino, è stata sotto il dominio turco per più di quattro secoli. La Grecia ha cominciato una insurrezione, una rivoluzione nel 1821. Dopo grandi lotte, morti, feriti, schiavi, è riuscita a poco a poco a liberarsi dai turchi e costruire una nazione a poco a poco moderna. Non so quanto sia stata questa modernità, quanto è durata. Immaginate che le ultime parti della Grecia, della Grecia attuale, sono state nell'inizio del secolo scorso. nel 1912, Creta e Piro, per cui a poco a poco sono entrati nella Grecia. Immaginate che l'ultimo pezzo, Creta, dove lui è seconda patria, dove va spesso, va a Creta durante l'estate, è un sacro sinodo che non dipende dal sacro sinodo della Chiesa greca, ma è un semi indipendente. Loro fanno le loro cose, però dipendono un po' dal patriarcato di Costantinopoli. Pensate, il dodecanesso, voi queste, non vi dicono niente, quelle che venite da lontano, magari, non dipende dalla Grecia, dal sacro sinodo greco, ma direttamente dal patriarcato, perché è stata liberata dagli italiani dopo la seconda guerra mondiale. Per cui c'è una situazione dal punto di vista strutturale un po' complicata. Allora, una cosa che non bisogna stare molto tempo, questo perché ci sono altre realtà da parlare, vi dico solo questo. e la Grecia è una delle cose negative, però a loro fa comodo e tutte le chiese ortodosse sono chiese autocefale, si autogestiscono. Non c'è un'autorità centrale, come nella Chiesa cattolica c'è un'autorità centrale, Roma, e poi i vescovi fanno una specie di non è una monarchia, però per un certo senso si potrebbe parlare anche di questo. Si autogestiscono, per cui poi quanto mi farà la domanda ecumenica, vi dirò le difficoltà ecumeniche che c'è per questo. Allora, la Grecia si autogestisce a un sacro sinodo dove si riuniscono due volte all'anno tutti i vescovi e il sinodo nel suo insieme. Invece c'è un sacro sinodo permanente che si fa a turno e prendono le decisioni. E' una cosa molto importante. quando ci fu la rivoluzione greca e quindi la Grecia si sono staccati da Costantinopoli e da Bisanzo e da Istanbul come lo sapete e il patriarca allora non ha riconosciuto l'autocefalia della chiesa greca e per molti anni almeno 30 anni era considerata una chiesa sismatica e quindi venivano i vescovi dall'altra parte per ordinare i sacerdoti e finalmente ha riconosciuto l'autocefalia però non c'è un capo non c'è un patriarca l'unica chiesa autocefala di quelle antiche dove non c'è un patriarca è la Grecia l'arcivescovo di Atene si chiama arcivescovo di Atene tutta la Grecia ma non è affatto di tutta la Grecia è semplicemente il responsabile del capo del sacro sinodo non mi dilungo perché sarebbe già una conferenza a parte certo solo per dire se puoi aggiungere la chiesa cattolica è una piccola minoranza è una piccola minoranza allora la chiesa cattolica la chiesa cattolica prima di tutto i cattolici si guardano come se fossero degli stranieri si chiamano franchi perché anche questa cosa è molto importante in questi paesi non solo in Grecia essendo c'è una identificazione quasi della nazionalità con la religione quindi essere ortodosso significa essere greco essere greco significa essere ortodosso per cui noi ci vedono un po' in maniera molto strana però i cattolici nelle isole del mare Geo si rostino santorini queste isole sono antichissimi non ci sarebbe da dire molto quindi erano grezzi autentici non sono grezzi convertiti sono diventati latini del resto le conversioni sono molto rare sono quindi oggi come oggi la chiesa cattolica greca con con greci diciamo a una quarantina di 40.000 però improvvisamente dopo che si sono aperte i confini della 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 Russia del del gruppo cortina di ferro come si chiamava in questo momento dopo che sono venuti gli albanesi altri in questo momento i cattolici sono diventati più di 350.000 con grandi difficoltà perché non abbiamo sacerdoti c'è una gravissima crisi di vocazioni perché essendo pochi non fanno più figli sapete queste cose noi le sentiamo molto di più e quindi la la difficoltà di gestire dal punto di vista pastorale perché sono sparsi tutte le isole dove vai trovi dei cattolici però non ci sono sacerdoti non ci sono chiese e noi preghiamo io la prima cosa che ho fatto da vescovo è portare tre sacerdoti dalla Romania che hanno imparato bene il greco li ho ordinato io non erano ancora ordinati e ora stanno bene è una difficoltà che non è il caso di affrontare qualcosa ancora dire qualcosa ancora diremo di questo ma prima di parlare del tuo ministero poi come vescovo la tua esperienza personale accademica è stata di incontro di confronto di dialogo con la chiesa orientale con la chiesa ortodossa in che cosa ti ha arricchito questo incontro come vescovo o come no come professore e come come cappuccino come cristiano devo fare alcuni riferimenti autobiografici scusate vero io avevo finito una tesi di laurea nell'università di Friburgo in Svizzera il tema era storico i rapporti del Medioevo tra il papato e l'impero bizantino facendo dei riferimenti molto concreti per quale motivo siamo arrivati a questo punto sono arrivato a Corfu a Corfu ad Atene dove la mia comunità allora è passato uno noi siamo definitori generali mi disse Giovanni Giannis è il mio nome in greco ma tu cosa fai qua ma niente faccio delle spese ma no tu vieni a Roma per insegnare il nostro istituto storico ma io cosa volete che insegno l'istituto di spiritualità arrivo e non sapevo cosa fare allora mi è venuto in testa io sapevo già avevo studiato già abbastanza teologia ortodossa a Friburgo avevo un professore bravissimo avevo professori nell'istituto di Bose in Svizzera e allora devo fare qualcosa vediamo cosa ha fatto San Francesco possiamo trovare una possibilità di un incontro è uscito questo vicino è cominciato la mia attività con questo ma l'istituto storico l'istituto l'istituto di studi orientali qui a Roma dice ma tu non hai fatto una testa di laurea così vieni a insegnare qua e è aperto a poco a poco questo mondo questa sette che avevano di sapere le cose orientali e soprattutto la chiesa la teologia greca perché conoscevano solo la teologia slava dai russi della diaspora Beliantov Bulgakov eccetera e non conoscevano niente che esisteva anche un'altra tradizione ortodossa che aveva una grande importanza e allora si è aperto ed era la prima volta che si parlava di queste cose si è aperto allora a questo mondo per cui allora dice ma cosa fai a Roma niente faccio il comunismo ma cosa parli dell'unità di cristiano no no non parlo dell'unità faccio conoscere agli miei studenti che esiste un altro mondo il mondo ortodosso di lingua greca perché non ci conosciamo l'ecumenismo è conoscerci e apprezzarci a vicenda e per 25 anni che ho insegnato qui ho fatto questo ed è questo il mio quello che io penso perché dove vado incontro dice ma sa io sono stato suo studente ma sa io insegno prima lui io insegno quello che ci ha insegnato i libri le dispense che ci ha dato è questo che mi ha lasciato che ho contribuito anche quel pezzettino nella conoscenza e nell'ecumenismo questo dico agli ortodossi non siamo qui per fare l'unità lo spirito santo fa l'unità non noi se ci sarà mai noi siamo capi a conoscerci perché non ci conosciamo e ci accusiamo l'uno all'altro senza conoscersi grazie grazie di questa bella testimonianza io sono appunto un figlio di questa esperienza e io ho conosciuto insieme all'altro mio maestro professor Cesare Alzati il mondo orientale attraverso Monsignor Lianni Spiteris ho seguito i suoi corsi lo seguivo dunque insegnava seguivo le sue lezioni e quello che cerco di fare è seguire queste orme facendo conoscere adesso a voi il mondo dell'Oriente Cristiano la sua ricchezza la sua bellezza e l'importanza di respirare con due polmoni come ci ha insegnato Giovanni Paolo II bene grazie allora adesso arriviamo invece alla tua missione pastorale come vescovo allora la domanda è quali sono state le principali gioie del tuo ministero pastorale e quali le difficoltà le sfide che hai dovuto affrontare dunque quando io dovevo quel giorno avevo la lezione all'università della Tierra Nense lezzevo una una telefonata della congregazione per il chieso orientale da qui noi dove andiamo dice guardate vieni qua perché ti voglio il cardinale arrivo cosa volete dice esce una lettera ho visto Giovanni Paolo II dice sei stato eletto vescovo oh dico io non non è per me io ho il mio insegnamento mi basta un'ora a stare lì ma va via viene domani insomma per non fare da lungo ho dovuto accettare perché i vescovi a cui con cui ho parlato mi hanno detto guarda vieni perché abbiamo bisogno di cosa avete bisogno di me abbiamo bisogno perché c'è la mancanza di dialogo ecumenico con gli ortodossi tu vieni perché sai due cose più di noi questo ho accettato ho accettato di essere vescovo per poter comunicare con i fratelli ortodossi e nella nella omelia del giorno della mia consacrazione ho mezza pagina e l'avevo pronta lo scopo uno dei scopi che avevo anche quello ci sono riuscito in un certo senso sì io dico sempre che l'ecumenismo con la chiesa ortodossa è difficile perché è difficile perché la chiesa ortodossa non ha avuto un concilio vaticano secondo non ha avuto un papa che dice dobbiamo fare un concilio e dobbiamo anche discutere questo fatto chi sono i differenti chi sono i cattolici chi sono gli altri sono la riconosciamo come chiesa sono validi i loro sacramenti quello non hanno potuto fare hanno fatto un tentativo nel grande concilio sinodo della Calibari di Creta però non è riuscito la Russia non ha voluto venire l'unico momento e possiamo stare questo ecco per cui è difficile un dialogo ufficiale perciò è molto utile quello che facciamo a livello accademico allora cosa ho fatto io come vescovo ho avuto contatti con i vescovi della mia circosizione della mia territorio insomma ho cominciato con il vescovo di Corfu sono andato a trovarlo abbiamo parlato dico io non sono qui per fare contraltare sono venuto per i miei pochi cattolici io voglio collaborare con te sì sì senz'altro e che cosa ha consistito allora il lavoro che abbiamo fatto con lui cosa che non esiste in nessun'altra parte della Grecia allora vi do solo tre esempi la settimana per l'unità dei cristiani è solo a Corfu ed è continuato abbiamo una giornata di preghiera in comune non vogliono pregare con noi perché è proibito da un sinodo con gli eretici e noi preghiamo con loro il metropolita manda un messaggio bellissimo sul tema che ogni anno si presenta dalla Chiesa Cattolica in collaborazione con gli altri preghiamo insieme cantiamo insieme è solo a Corfu questo e non per il merito mio ma in merito anche del mio predecessore secondo il giorno di Pasqua il sabato santo sera gli ortodossi come sapete portano dal Zerusalemme dalla tomba della risurrezione del tomba del Signore la santa fuoco la santa luce la santa insomma si portano e arriva in diverse parti la musica allora il metropolita arriva di fronte all'uomo dove noi celebramo il sabato santo uscivo io in paramenti usciamo fuori ci abbracciamo nel mentre sono televisioni da tutta la Grecia perché Pasqua di Corfu è famoso e mi dà il fuoco che mettiamo nella cattedrale ed è accesso tutta la settimana dopo Pasqua questo è uno la processione del Corpus Domini solo da noi succede viene e manda un rappresentante se arriva di fronte al duomo c'è un parco il vescovo manda un messaggio che leggi di fronte a cattolici ortodossi dopo che io ho parlato ecco questo la stessa cosa ho fatto però non sono riuscito perché non sto lì con gli altri vescovi sono molti i vescovi nel mio territorio andavo a trovarlo per esempio nell'Alexandrupolis che è vicino nella Turchia ogni volta chiede venite a mangiare con me parliamo immaginate che mi ha dato un sacerdote che era prima o cattolico è diventato ortodosso ma voleva ritornare vieni qua prendilo è ora ad attende e voglio dire che i rapporti i rapporti personali sono molto importanti qual è la cosa ma non non è tutto così perché esistono anche metropolite che non la pensano così esempio classico ecco sto qua ve lo dico solo un poche parole è un metropolita di una grande diocesi quello di Pireo il quale ha mandato al Papa un volume così scritto gli dice signor Bergoglio ti prego di convertirvi per andare all'inferno e ho scritto una volta è fallito il cumenismo sì o no ho detto no non è fallito e ho fatto un riferimento un pochettino che che ne dicano alcuni lui mi ha attaccato due volte però gli altri ridono ci sono alcuni questi che sono però ripeto la situazione è molto più tranquilla di prima perché ci sono questi contatti immaginate che quanto facciamo il simposio è organizzato da loro in Grecia loro vogliono dove in una città differente deve essersi un metropolita che si accoglie e dà la dimensione ecclesiale e non solo accademica e quindi troviamo ogni volta e paga anche le spese quindi vedete che ci sono i pro è conto bisogna avere pazienza diceva Giovanni Paolo II bisogna avere pazienza dobbiamo avere pazienza siamo andati per la visita a Delimina e si parlava di questo dovete avere pazienza grazie ecco questo rapporto fra la chiesa ortodossa e la chiesa cattolica in Grecia ci sono dei segni belli di unità dei passi che anche la chiesa cattolica ha fatto per esempio di solito molto spesso la data della Pasqua non coincide fra la Pasqua cattolica e quella ortodossa quest'anno addirittura c'è più di un mese di differenza mi sembra ma la chiesa cattolica in Grecia ha deciso di non seguire il calendario della chiesa cattolica universale ma di uniformarsi la data della chiesa ortodossa e questo è un bel segno di ecumenismo bene già ne hai accennato ma il tema dei nostri incontri è missione e dialogo allora cosa vuol dire queste due parole la missione noi pensiamo che la missione è una missione di evangelizzazione e il dialogo invece è quello di un confronto nella tua missione pastorale come hai articolato missione e dialogo missione che forse la parola missione per questi paesi dove sono la cristianessimo è molto antico è proprio di lì è un po' una parola che fa pensare un po' perché dicono i missionari quando si dicono i missionari in Grecia significa soprattutto i protestanti che fanno del prosolitismo quindi è meglio usare la parola evangelizzazione anche perché c'è stato un sinodo c'è stato il documento del papa quindi evangelizzazione e guardate a me fa impressione certe volte per per alcuni aspetti prima era meglio di ora dopo la caduta del muro di Berdino dopo l'apertura delle barriere dei paesi comunisti la prima la chiesa russa era proprio una chiesa di dialogo c'erano dite del dialogo diciamo i comunisti stessi ora che sono maggioranza libera e c'hanno tutti quello che di positivo dà lo stato russo sono diventati integralisti noi e nessun altro la stessa cosa vediamo l'integralismo musulmano più andiamo avanti più l'integralismo diventa duro e diventa pericoloso in Grecia abbiamo avuto due momenti molto difficili dal momento che il c'è questa identificazione tra la chiesa e lo stato noi abbiamo avuto delle difficoltà grandi paura cioè quando ci fu lo scontro nei paesi della ex Jugoslavia e la nato bombardava il Belgrado tutti un ministro di allora diceva questo è stata riconosciuta il Vaticano benedice le armi il Vaticano io arrivo parto di qua arrivo a Corfu entro in una in un taxi lui non sapeva chi ero e da dove venivo ma questi questi cattolici questi avevamo tanta paura che qualcuno mettesse qualche bomba nella nostra chiesa siamo andati alla polizia che era molto pericoloso questo integralismo politico la politica è il diavolo è quella che crea dei problemi se c'è stata questo che ho dimostrato al mettesse di Laura lo scontro tra il papato e l'ipero bisantino contro lo sisma non erano le cose teologiche erano cose politiche anche quelle creano le cose più difficili noi per fortuna abbiamo superato come la chiesa cattolica in grecia non era riconosciuta dal punto di vista giuridico chi eravamo noi nessuno eravamo noi era una situazione molto difficile dovevamo mandare via un negozio e lui non voleva andare via e allora siamo andati a risolverlo e il giudice ha detto chi è chiesa cattolica ma chi è la chiesa cattolica io non abbiamo nessun riconoscimento giuridico abbiamo lavorato per anni interi la conferenza episcopale è andata a trovare il ministro allora era una donna intelligente morta recente che era ministro dell'educazione dell'istruzione e anche delle affari religiosi e dice ma certo dovete è giusto e io ho detto e poi dico non è che chiediamo di essere pagati perché non siamo pagati dallo Stato noi noi non siamo pagati i miei sacerdoti li ho assicurato uno come autista uno come bibliotecario non siamo riconosciuti mentre gli ebrei gli ortodossi e i musulmani sono riconosciuti e sono pagati dallo Stato noi non abbiamo io non sono assicurato per niente dal punto di vista della della salute allora siamo andati lì e ho detto guardate ma noi non chiediamo niente spunta uno ma voi non siete pagati dallo Stato italiano siamo italiani perché? perché i sacerdoti greci che lavorano qua alla diaspora sono pagati dallo Stato greco cioè da noi dai contribuenti quindi questa mentalità finalmente finalmente nel 2014 2014 è stata riconosciuta la entità giuridica della Chiesa cattolica quindi dei conventi quindi delle chiese però con la mentalità greca per esempio non è stato riconosciuto gli ordini la provincia perché non esiste in Grecia questa struttura esiste il convento quindi è stato riconosciuto il convento però hanno messo una una clausola per fare un convento nuovo ci vogliono cento cento monaci cento monaci neppure al monte alto esistono per cui sono arrivate delle congregazioni nuove con le del verbo incarnato e non sono riconosciuto quindi tentiamo in questo momento quel dialogo quel governo di aggiustare quindi devono fare una legge nuova che è giusta abbiamo queste difficoltà e l'abbiamo vissuto come conferenze episcopali non è tragico guardate va bene dal punto di vista economico loro credono che ci paga il Vaticano l'ultima domanda la chiesa cattolica è in questo processo sinodale appena concluso il primo dei due sinodi sulla sinodalità allora la domanda è tu hai accennato che la chiesa greca è una chiesa sinodale cioè una chiesa che si struttura con un sacro sinodo puoi dirci secondo per le tue conoscenze che cosa della struttura sinodale della chiesa orientale può dire al nostro cammino sinodale allora io sono stato anche dieci anni quindici anni membro della della commissione teologica internazionale dialogo della chiesa cattolica e le chiese ortodosse sarebbe troppo lungo a descrivervi un po' noi abbiamo pubblicato due documenti anzi tre possiamo fare due col tema sinodalità e primato e siamo riusciti ad arrivare ad una conclusione basandosi sui testi antichi qual è la conclusione credo che questa cosa ancora non è stata affrontata dalla chiesa cattolica a tutti i livelli a livello episcopale c'è un primo il vescovo e i molti i suoi il suo presbiterio classico esempio sono le chiese antiche paleocristiane in cui c'è il sintrono c'è una cosa rotonda a forma di cavallo in cui c'è il vescovo nel mezzo e il suo presbiterio quasi le sue mani che le abbracciano a livello è chiaro a livello a livello locale a livello regionale c'era il primo un primo e un i molti e i primi qui era il molto e il patriarca e i molti erano gli altri vescovi e i sacerdoti quindi era necessario in ogni realtà ecclesiale avere un primo e i molti e il primo che collaborano arrivati a livello mondiale c'è bisogno di un primo c'è bisogno i molti si sono il primo e lì che appena i perotodossi hanno detto per noi secondo il sinodo il primo sinodo il patriarca ecumenico perché si chiama anche ecumenico a questo punto i russi sono alzati sono andati via sono andati via lasciamo stare questa cosa contingente che è grave per il dialogo perché non credo che il dialogo ormai si può essere come era prima qual è la difficoltà che noi abbiamo che non l'hanno affrontato loro parlano bla 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 nel sinodo qui qual è la difficoltà la difficoltà è questa qual è il rapporto tra il primo per noi noi siamo dal punto di vista cattolico e il papa come e i molti allora c'è un documento antichissimo il canone 34 dei canoni dei apostoli il quale dice i molti non devono fare niente senza il consenso del primo e il primo non può fare niente senza il consenso dei molti ora se noi prendiamo la lettera a questo ci saranno delle elevate di scudo nella chiesa cattolica perché diranno è una una questione antica vi ricordate tutta la questione del galicanesimo la questione chi è il concilio il papa quindi bisogna trovare un modo anche una struttura differente quindi la difficoltà del perché ci sono due parole che non mettiamo in evidenza spesso altro in un senso senso è la sinodalità e altra è la la collegialità la sinodalità riguarda tutta la chiesa nei suoi diversi perché sinodale è anche una parrocchia la collegialità è il collegio dei vescovi successore degli apostoli di cui ha parlato già il concilio vaticano secondo nel nomen zenzium quindi questo aspetto bisogna affrontarlo qual è questo aspetto una volta il candidato Ranziger che allora era prefetto finisco era prefetto della congregazione per il sacrofisso per la dottrina della fede ha invitato alcuni teologi e loro che eravamo qui a Roma dare una risposta al Papa Giovanni Paolo II nella sua enciclica Autunum Si in cui diceva i teologi studiate il primato come può essere realizzato in pratica allora io dato che mi avete invitato vi faccio anche io una proposta qual era la mia proposta il perciò la risposta è la reazione la curia romana si trasformi come nella chiesa ortodossa come un sinodo permanente il Papa ha una iniziativa il sinodo permanente come fanno le chiese ortodosse lo discutono e insieme non separatamente non è il primo insieme questo qua significa unione fraterna unione amore fraterno corpo di Cristo insieme decidono rimanendo il Papa l'uno il capo e le membra le membra e il capo Cristo capo non è diviso dalle sue membra non si può avere un mostro un corpo separato dalla dalla testa è una testa separata non si può allora che siano dice ma che va ci saranno alcuni permanenti e anche vescovi a turno a turno si è alzato un vescovo che non voglio dire il nome che poi ma questo non è possibile non è possibile e io le ho risposto le ho risposto male nessuno ha appreso la parola perché ha avuto paura ma perché non avete parlato allora durante questo sinodo dovevamo preparare le conferenze episcopali insieme alla gente una proposta da dare a Roma e io ho riproposto questo e i miei vescovi non hanno accettato quindi o almeno alcuni grazie non vi voglio però ci sono delle soluzioni bisogna discuterle questa risposta ci fa vedere com'è importante la ricchezza di confronto fra la tradizione orientale e la tradizione occidentale che sono due tradizioni bellissime ma che separate mancano di qualcosa esattamente come appunto una persona che è costretta a respirare con un polmone solo con un polmone solo con un polmone solo